Salve amici, l'avete notato? Una volta guardandoci attorno vedevamo quasi sempre gli stessi materiali, il legno, la pietra, i mattoni, il ferro, il vetro. Adesso le cose sono cambiate, attorno a noi vediamo un numero crescente di materiali che ci è sempre più difficile riconoscere e che producono a volte dei risultati veramente sorprendenti. Ci domandiamo allora da dove viene la moltitudine di nuovi materiali? Viene da me, la grande macchina progetta materiali. Cosa fai tu? Di tutto, ricevo le informazioni sul tipo di materiale che serve e sulle sue proprietà e lo realizzo esattamente. Ora ho qui le apparenze di una macchina, ma in realtà sono un complesso sistema di conoscenze, processi, possibilità tecniche capace di mettere a punto volta per volta il materiale adatto per ciascuna applicazione. E' proprio questa la vera novità di oggi, non c'è solo il moltiplicarsi dei materiali, ma c'è soprattutto la possibilità di progettare e produrre materiali su misura per specifiche applicazioni. Sei formidabile, ma è difficile capire bene questa faccenda dei materiali progettabili. Puoi spiegarmelo? Sono qui per questo. Per semplicità vi faccio l'esempio dei materiali a base polimerica, ma non a caso perché è proprio con essi che è nata l'idea di materiale progettato e su misura. Si può agire su tanti piani diversi, dalla forma delle molecole fino a quella della struttura macroscopica dei materiali. Per esempio, nella progettazione di nuovi polimeri, i mattoni sono i monomeri. Combinati tra di loro in modo diverso danno luogo a macromolecole caratterizzate da diverse proprietà. Progettare in questo caso significa mettere in ordine dei legami chimici e fisici, dare una forma speciale a delle grandi costruzioni macromolecolari. Un lavoro di ricerca che ha portato notevoli risultati. È difficile ottenere polimeri specifici per specifiche esigenze? Diciamo che la messa a punto di un nuovo polimero non è cosa di tutti i giorni. Ci sono però mille procedimenti per arrivare a delle formulazioni speciali pensate per specifiche esigenze applicative, dal modo in cui il polimero è sintetizzato, alla possibilità di miscelare tra loro polimeri diversi creando dei blends polimerici o di aggiungere ai polimeri degli additivi o delle cariche. Così, se ho ben capito, da ogni polimero può emergere una famiglia di materiali diversi su misura per definite applicazioni? Esattamente. Il caso del polipropilene è esemplare. Scoperto negli anni 50 dal Nobel italiano Giulio Natta, oggi vengono presentate varie formulazioni che permettono applicazioni diversissime. Contenitori alimentari, fibre tessili, componenti per autoveicoli, tubazioni industriali. Tutto questo a partire dallo stesso polimero? Certo. Altro caso il polistirene. È possibile migliorarne la resistenza sia agli urti aggiungendogli del materiale elastico, sia alla temperatura mescolandolo con un altro polimero. Questa è la progettazione dei materiali a livello di molecole e di miscugli vari. È un gioco da chimici, insomma. Sì, però c'è anche una progettazione di scala più grande che con le opportune tecnologie combina a livello macroscopico materiali diversi e così produce materiali compositi, le cui diverse parti costituenti sono riconoscibili assai più facilmente. Qual è il criterio di progettazione dei materiali compositi? Mettere il materiale giusto al posto giusto. Si può agire su tanti parametri. Questo mi sembra piuttosto un gioco da ingegneri. Appunto, ma ingegneri un po' speciali. Se ne producono tanti i materiali compositi? Tantissimi. Quelli di cui si sente più parlare sono i cosiddetti compositi avanzati. Si tratta di materiali specialissimi per usi altrettanto speciali. Hanno prestazioni straordinarie. Nascono dalla combinazione di una fibra, che può essere di vetro, di carbonio, di materiale araminidico, di ceramica, con una matrice podimerica che lega le diverse fibre e distribuisce gli sforzi. È abbastanza comune ottenere il materiale finale stratificando materiali diversi, ciascuno rispondente a specifiche esigenze. La loro progettazione consiste appunto nel definire le proprietà e le caratteristiche geometriche di ogni strato. Anche in questa configurazione abbiamo dei compositi avanzati per usi speciali, dove un'anima leggera tiene distanziate due pelli ad alta resistenza meccanica. È un gran lavoro di precisione. Prenderà un sacco di tempo, ma la produzione non si può automatizzare. Certo, oggi ci sono robot che mettono le fibre che dispongono e tagliano i tessuti, ma è un lavoro comunque lungo. I pezzi da produrre non devono essere tanti. Sono possibili però applicazioni in grandi serie, con altri tipi di compositi che ricorrano a fibre disposte in modo casuale. In pratica queste fibre fanno da armatura ad una matrice, che può essere stampata a iniezione o per termoformatura, come qualsiasi materiale polimerico. Molti componenti automobilistici sono fatti così. Ma anche prodotti più comuni, come per esempio i pannelli sandwich per l'edilizia, sono fatti un po' in questo modo. Non è vero? Certo, rispondono anche essi all'idea di produrre un materiale composito a partire dalla stratificazione di materiali diversi. C'è uno strato interno isolante, due pelli strutturali e due strati di finitura. Ma ci sono poi altre strade frequentemente seguite per arrivare alla produzione di un materiale composito. Per esempio ci sono sempre più oggetti che presentano una struttura complessa, composta da una parte resistente, una di riempimento, magari morbida, ed una di superficie con funzioni estetiche e protettive. Un po' insomma come se fossero costituiti da osso, carne e pelle. I nuovi materiali sono un campo di possibilità tecniche molto ampio in continua evoluzione, questo lo abbiamo capito. Ma l'utilizzatore come fa da solo a conoscere tutto? Occorre che l'industria dei materiali gli venga incontro, comprenda il suo problema, parli il suo linguaggio. La progettazione del materiale nasce da questo dialogo con l'utente finale e dalla messa a fuoco dell'idea precisa degli impieghi e delle prestazioni richieste. È necessario poi fare molte prove e molte verifiche. Per esempio per sapere a quali sforzi meccanici potrà resistere? Occorrerà fare le dovute prove di resistenza meccanica. E per sapere come resisterà a certe temperature o al fuoco? Bisognerà fare le corrispondenti prove di resistenza tecnica e di resistenza alla fiamma. E se dovrà sopportare l'aggressione di agenti chimici o atmosferici? Anche in questo caso ci sono prove da fare. Occorrerà poi proporsi dei problemi produttivi, ottimizzare la qualità del materiale in rapporto alla forma del manufatto da realizzare, progettare gli stampi e le attrezzature, tener conto della serie. Non è la stessa cosa pensare al materiale e alle tecnologie di trasformazione per cento pezzi o invece per centomila. Un sacco di problemi tecnici insomma. Non solo, i materiali e le relative forme che essi possono realizzare devono produrre delle nuove qualità e questo è un fatto anche culturale. Cioè? Può essere ipotizzato un nuovo mondo di prestazioni e di forme che i materiali progettati rendono producibili. Possono essere realizzate le più diverse finiture superficiali conferendo all'oggetto sembianze di ogni tipo. Mi pare che questi nuovi materiali possano camuffarsi in tutti i modi. Certo, ma proprio perché c'è questa libertà il risultato va controllato. Progettare un materiale significa anche definire una sua identità culturale. Insomma, c'è tanto da fare anche per i designers. Riepilogando, usare materiali nuovi e su misura significa interagire con un complesso sistema di ricerche, sperimentazioni, servizi. Naturalmente. E d'altra parte per chi invece i materiali li produce e per l'industria chimica in particolare, si tratta di essere in grado di fornire questo articolato sistema di servizi all'utenza. Si tratta cioè di passare ad essere produttori di materiali e servizi. Non è una trasformazione da poco, ma è proprio su questo terreno, sulle capacità di riorientare in questo modo le proprie attività che si gioca il successo di un'azienda nel mondo dei nuovi materiali. Questa, si può dire, è la sfida che nuovi materiali hanno lanciato. Una sfida che costituisce la strategia della presenza di Montedison sulla scena internazionale. Grazie. 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 Grazie.